ah è uscito il video di dash che è della 0.6.7 da vedere quando c'è dash si alzano le mani o si abbassano dipende navi di livello 7 kamikaze 3 contro 2 stesso numero di corazzate figi flint va bene è un po tutto per la verità non ho specificato perché comunque dobbiamo mantenere un certo decoro allora qui noi possiamo facilmente andare a sinistra andiamo a sinistra prego prego bandiere camuffamenti no niente camuffamenti kamikaze sarebbe l'ideale affondare subito la kamikaze r così ce la leviamo da sotto le scatole perché è molto pericolosa ma questo qui non si è connesso ok grazie troppo gentile mi sentivo solo da queste parti beh ragazzi sono tutti spottati e adesso tocca a voi io qui andrei di fumo fumo e h e e idro vai vai eh vai però cerchiamo di beccarlo occhio che cadi nella trappola dei siluri eh occhio ai siluri se no perché li ho rilanciati prima occhio alla trappola dei siluri occhio alla trappola eh si è caduto nella trappola mi dispiace quelli non puoi evitarli né ora e né mai sorpresa surprise eh lo so questa prima kit ce la prendiamo subito subito qualcuno si è fatto male di sotto buono la tattica dei siluri funziona sempre guarda che non sono un caccio torpediniere qui dentro eh non c'è un caccio torpediniere c'è c'è una flint incazzata nera che ti spara e si prende la kill è rimasto a sette non ti permettere a prendermi la kill non ci pensare neanche non ci pensare neanche ragazzi un inizio devastante davvero devastante adesso ci prendiamo la terza kill lui neanche se ne accorgerà perché non sono neanche spottato quindi quando mi vede sarà troppo tardi non ha il tempo materiale per lanciare i sicuri quindi vediamo ok buono sono sono rimbalzati tutti miseria latra sono rimbalzati lo sapevo se fossi stato con le h e avrei preso la kill però ha raggiunto l'inclinazione tale da che i colpi appunto sono rimbalzati ti consiglio di andare di ap dubito che tu abbia il fumo ne dubito fortemente buono va bene man i'm on fire yes tranquilli ragazzi situazione controllata no eh si però non mi spinge fuori no no e mi spinge fuori vabbè no problem volevo rimanere ancora un po' al coperto andiamo dai eh l'incendio serve che non arriva vediamo se arriva la kill mi sono messo nei guai da solo bravo aspettavo proprio quella mossa nooo l'ha presa lui va bene male 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 buono aspetta aspetta perché andiamo di siludi non mi sono scordato di te non mi sono scordato di te sei lì dentro ok ha letto adesso si che ha letto qua serve un incendio però l'incendio che non arriva 594 poco 891 andiamo per il capo andiamo dai almeno arrivare a 100.000 danni porca miseria e mi sa che neanche quelli sì finalmente eh lo devi tenere lo devi tenere lo devi tenere no ma tu pensi veramente di beccarmi con due torrette veramente mi vuoi beccare in quel modo un altro incendio sempre la idro nel fumo sempre dammi questa kill dai non rompere sì adesso cattivi sulla Koenig magari ci prendiamo ci prendiamo la quarta ci prendiamo e qua serve l'incendio qua serve l'incendio cattivo e dammi questo incendio dammi la kill adesso dammi la kill e non ci pensare più ma no ma porca di quella non è possibile potevamo fare il kraken in questa partita invece no porca miseria la pg spara ogni 7.5 secondi noi spariamo ogni 5 secondi però lui ci fa molto più male ma porca di quella non ho il tempo di mettere le appi non ho il tempo a questo punto preferivo più un incendio porca miseria potevamo potevamo fare davvero la kill kraken potevamo farlo poi settimana prossima vi faccio vedere un po' il calendario con i vari giochi non sarà solo World of Warships tutta la settimana perché sono poche palle sono un gioco abbiamo guadagnato 458 125.000 danni 389 hit 3 siluri 1 aereo 4 critici 3 navi 7 incendi e 3 palle punteggio squadra primi con 1952 la kazuki sicuramente avrà fatto meno punti i rapporti dettagliati abbiamo fatto malissimo a quella ARP crediti levate le varie spese 344 e anche un ottimo 17.000 per il comandante 1.100 per l'esperienza tecnica ragazzi grazie per l'attenzione live terminata ci vediamo domani alla prossima ciao adesso mi levo un po' di messaggi qui Grazie.